Grazie Presidente, molto velocemente soltanto per dire che con questo emendamento chiediamo che venga aggiunto in delibera il punto 9, quindi alla fine del deliberato, il punto 9 che recita così. In riguardo i fabbricati già realizzati sui comparti Z1, Piazza dei Navigatori e Z3, Viale Giustiniano Imperatore, ciascun titolare di detti beni per sé o propri aventi causa a qualunque titolo, pattiziamente si obbligherà a rispettare le destinazioni d'uso di cui ha i titoli abilitativi edilizi già rilasciati e ciò almeno per la durata della Convenzione innovativa. In caso di mancato rispetto di detta obbligazione, l'amministrazione avrà facoltà di adire al giudice competente per il rispetto di quanto sopra. Con questo emendamento quindi chiediamo che per gli edifici già realizzati, quindi nel comparto Z1 e Z3, sia per la durata della Convenzione innovativa impedita il cambio di destinazione d'uso. Grazie.